e dopo una settimana senza registrare si ritorna ciao a tutti ragazzi in momento questo nuovo video sono sempre io e Francesco e oggi siamo ritornati sulla seconda parte di Left 4 Dead 2 allora, innanzitutto l'altra volta ho fatto il scusate ho il singhiozzo ho fatto la prima parte e cioè l'hotel scusate se ho il singhiozzo è uno schifo l'ho sempre odiato allora, io l'altra volta ho fatto l'hotel e stavolta la facciamo a strade normale che a volte quando mi scorcio la metto facile e mettiamo stavolta mettiamo la femmina quindi ragazzi se il video vi piace 600 like per il terzo episodio 700 no sempre 600 scherzo 600 like sia per il mi piace che il prossimo episodio bene ragazzi il video può, cioè la seconda parte può continuare e direi che possiamo cominciare con la schifosa se che possiamo continuare con la schifosa serie e... eeeh... 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 ehm... eeeh... 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 fatti al cazzo tu che spaventi agli altri scusate, al fine video vedrete un nuovo amico e amichetto, ok si parte, kit che è la cosa più importante e ci viene il fucile a pompa, scusate ancora, buongiorno, e stavolta gli facciamo il culo, delle palle, ok headshot bichnic, ok, perfetto, devo prenderlo io ma c'è un traditore, provate, oddio, grazie, madonna, che succede, nell'altro episodio era più facile aiuto, no, 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 charger, ti voglio bene, ma non prendere me, prendi qualcun altro, ok, che schifo, madonna, ragazzi, che schifo, andiamo, ok, ragazzina, ho fatto vedere la parte in cui siamo morti quando, perché è venuto un tank e ci ha uccisi, e qua ce n'è un altro, oddio, oddio ragazzi, ragazzi, muori, 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 oddio Alice, è andata a fanculo, oh cacchio, aiuto, muori, muori, ok, madonna, Alice, ok, scusate ancora, devo bere dell'acqua prima di fare il video, no, andiamo ad aiutare Nick, oddio ragazzi, stiamo, questo episodio è nero ragazzi, non ho parole, lo giuro, andiamo alle munizioni, ok, e ci ne andiamo, infatti mostre, morite, 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 ok, chiarola, ecco, donna ragazzi, sto episodio è nero, porca troia, scusate ancora, sto episodio è nero ragazzi, non ho parole, cioè, l'episodio precedente era più facile, qua proprio è nero la giornata, madonna, sto segnozzo, è nero la giornata ragazzi, cioè, pensavo fosse più facile andando avanti, ma invece è più difficile, che vuoi? io mi prendo attenzione, anzi no, lasciate, crepate, bastanti, ecco, e Nick c'è una sopra, sopra l'idea, tipo Rambo, sugli alberi, ok, cazzo, che violenza, ok, andiamo, manogna, aiuto, uccite quello spitter, ok, nella scorciatoia, madonna, che schifo che era, quello, è stata la mia impressione, ho visto un pezzo fluttuare, un, due, tre, stella, un tocciaccato, che fail, che, che, che cosa ho sentito, ho sentito, ho sentito, e sembrava un tank, no, no, allora ragazzi, è un boomer, è un boomer, è un boomer, è un boomer, boomer, ok, Alice, 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 sì, dai, 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 eh, tocciaccato, non rompere, tocciaccato, tocciaccato, muori, muori, è un boomer, anche tu, maledetti tutti, wow, wow, amico, stai calmissimo, aiuto, ragazzi, quanti sono, porca miseria, mi viene da vomitare, con tutto il suo sangue, porca puttana, oddio, Alice, va intornato tra noi, madonna, ragazzi, che colpo, eh, che cacchio, sono trentamila, wow, l'M4, ma davvero, non lo sarei mai aspettato, prendetelo nel capo, anzi, sì, è a fuoco tutto, crepate, tutti quanti a fuoco, madonna, che casino l'ho combinato, oh, c'hai la bile, c'hai la bile, nella rassa, con la monotrofia è più forte, ok, l'ho fatto apposta per prendere la bile e la boomer, 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 c'è un culetto molto soffice, non te lo voglio, che chiarola, ragazzi, domani mattina si comincia una nuova serie, che non vi dico, perché è una sorpresa enorme, ragazzi, non vi spoilero nulla, comunque, morti tutti, a quanto stiamo? siamo a otto minuti, bene ragazzi, direi che il video può terminare anche qui, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un commento mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, ciao a tutti ragazzi, sempre da vostro carissimo Francesco,